Ciao ragazzi, allora è agosto inoltrato e penso che sia veramente il momento di andare a tirare un po' le somme per vedere i risultati di quello che è stato fatto quest'anno, ok? Quindi, mamma mia, devo dire la verità, di coltivare così le mie piante non mi era mai capitato assolutamente, ok? Ho provato tanti consimi in vita mia, tanti substrati, quindi penso che quest'anno io abbia trovato una strada che è veramente la più performante mai vista assolutamente da nessuna parte, ok? Piante che hanno lavorato in maniera potentissima in un luglio rovente, ok? È stato un luglio veramente cattivo e anche i primi d'agosto sono stati abbastanza cattivi, ok? Andiamo a vedere. Questo è il mio acero, come sempre, potato un'altra volta, sta di nuovo cacciando, sta di nuovo raddoppiando, ok? Di solito la pianta è scarica quando non raddoppia più, ma quando fa soltanto un butto, quando ci sono due gemme libere, ok? Qui praticamente raddoppia di nuovo, ok? Ha raddoppiato qui e qua raddoppia di nuovo. E qui ha già, praticamente, già maturato anche questo. Ragazzi, con Genesi abbiamo veramente delle esplosioni continue, che sia caldo, che sia freddo, non c'entra niente, ragazzi. Come dico sempre, date acqua tutti i santi giorni, ok? Primo perché ci sta col terreno granulare, che ci sia un ricambio di liquidi, e più perché ogni volta che bagniamo, se abbiamo dato Genesi, tutte le volte si bagna anche lui e va giù nel terreno, la pianta beve, ok? Come dico sempre in ogni video, e non lo dico per scherzo, le mie piante hanno tutte le foglie verdi, non c'è una foglia gialla e non c'è una foglia bruciata. Questo non lo dico per vanto, questo lo dico perché è la verità. Chiuso il discorso, cioè, ragazzi, io penso veramente di essere l'unico a coltivare in questa maniera, ok? Con i miei substrati specifici associati con prodotti veramente potentissimi, ragazzi. Una roba allucinante. Quest'anno ho creato veramente qualcosa di stratosferico. Già che ci siamo, diamo un'occhiata anche al mostro, dai, visto che siamo qua. L'altro giorno si è presa una bella bombata di vento, ti ha fatto un vento fortissimo, ma ha rovinato un po' la vegetazione. Però anche qua sta maturando lo stesso. C'è una cosa che io dico sempre, ragazzi, quando si va a pompare veramente forte, a dopare il materiale, vedete che i tempi si ristringono. Cioè, in un anno si fa quello che magari si fa in 3-4 anni. E non è uno scherzo, ragazzi. Anche qui, vegetazione, può sembrare di meno del tre dente, ma perché io sono andato a fondo. Cioè, io ho potato veramente a fondo. È già la terza potatura veramente all'osso che faccio, al limite. Io quando vado a potare, non sto lì a fare tre gemme, qua e là. Io guardo vegetazione che è matura e taglio al limite, ok? Quindi sto compattando già il materiale. Questa breve sarà veramente una bomba incredibile. Posso garantirvi che da video non è come nella realtà. Questa fa impressione. È grande come la mia faccia. Cioè, ragazzi, è una roba assurda. Quindi Genesi è confermato al 100% anche per il prossimo anno. Se ho tanto budget da investire, proverò anche a migliorarlo, ok? Però mi piace anche l'idea di fare un altro anno con questo prodotto per poi andare a consolidare ancora di più il risultato di ciò che ho fatto, ok? Così da dimostrare a tutti che veramente si è fatto tantissimo e molto di più di ciò che fanno altri, ok? Quindi ragazzi, ci vediamo nei prossimi video con un bel tutorial. Mi raccomando, sempre al massimo. Le piante devono andare al massimo. Zero compromessi. Grazie.